Anticipazioni Il Segreto Martedì 7 luglio 2020 Soledad e Wang si disperano e loro è purtroppo un amore impossibile. Peppa cerca di andare a trovare Donna Angustias che è stata ricoverata in manicomio, ma il dottor Julian non glielo consente. E anzi, la minaccia di brutto, terrorizzandola. Dolores e Ippolito provano in tutti i modi di vendere qualche brodo di indado. Intanto l'uomo diventato nel frattempo sindaco del villaggio viene costretto da Donna Francisca a non concedere a Raimundo la licenza per aprire la locanda. Potrà farlo solo se gli corrisponderà un piccolo contributo. La Montenegro nel frattempo cerca di corrompere anche il direttore della banca, ma per sua stessa sorpresa ciò si rivela del tutto inutile. Angustia sperza nei suoi vaneggiamenti ricorda un terribile incendio. Nel frattempo uno sconosciuto arriva in paese e si mette in cerca di Juana. Cosa vorrà dirgli? Di chi si tratterà? Cosa vorrà dirgli? Di chi si tratta? Cosa vorrà dirgli? Grazie a tutti.